Aspetta! Vai vai! No, devi farmi entrare! Dai! Allora aspetta, faccio film! Prima la sposa però, dai! Prima la sposa! Ah no! Ciao raga! Ciao che fa caldo veramente! Ok vai! Sì ma girati di qua, se no non ti prendiamo! Ma no così, dai! Sempre prima la sposa, non si capisce perché! È uno dei piccoli! Eeeh! Ripreso! Ah ma dov'è il pistacolo? No, è ripreso pure no! La scosciata! Vai vai! Ce la fai? In maniera un po' più normale no! Mi spingiamo dentro! Vuoi l'apri scatole? Siamo così di là! Scusate ma non si... Vai vai! E dove li mettiamo? Vieni per il testuto! Mettuto li fai scomando! Non so! No! Fattola con Massimo! Dai tu non... dai! Guarda lì... Che car... Oh, la tradisci già con l'autista, Pietro? Dopo neanche un minuto. Senti, quello li vediamo noi. Ma io sto davanti. No. Dietro. Dietro.